Per me partecipare al concorso è stata un'esperienza divertente perché mi ha permesso di dedicare un po' di tempo alle mie passioni e di creare qualcosa di mio, soprattutto ho avuto il piacere di ricevere il giudizio da qualcuno che è sparto di me. Per me partecipare al concorso è stata un'esperienza stimolante perché una traccia che poteva lasciare spazio in numerevole interpretazioni mi ha permesso di cercare e trovare un punto di vista originale sulla quotidianità dei nostri tempi. Per me partecipare al concorso è stata un'esperienza edificante perché da lì ho iniziato a costruire il mio futuro. È stato il primo mattone. Per la prima volta ho capito che ciò che faccio ha un valore e questo mi ha messa di fronte a tutti i sogni che per tanto tempo ho tenuto in un cassetto. Ora ho più fiducia in me stessa ed ho il coraggio di provarci. Per me partecipare al concorso è stata un'esperienza che mi ha rigenerata, mi ha permesso di mettere su carta sensazioni che da tempo non provavo, che mi hanno fatta sentire nuova. Ora quello che ho scritto ha un valore diverso, un colore diverso e sento che buttare giù quello che si prova sia un modo per vivere un po' di più. Grazie. 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 Grazie.